Mr. Cole è stata fondata da Angelo Leto e me, Mario Lemi. Angelo Leto è un ingegnere del software che ha insegnato High Performing Computing e ha lavorato poi sull'introduzione del Machine Learning nei modelli di processamento del linguaggio naturale per un'azienda di Torino. Io sono un fisico delle particelle elementari, ho iniziato a lavorare sulle modellizzazioni matematiche nel 1995 al CERN a Ginevra. Nel 2015 ho iniziato a lavorare per URMD, adesso Healthly, dove ho disegnato e poi implementato la prima versione e poi costruito il team di sviluppo per l'assistente medico, il symptom checker di URMD, che è un bot, alla fine, che attraverso varie domande, che si immagina, capisce le domande da fare per poter poi arrivare ad un'eventuale diagnosi della persona con cui sta interloquendo. Abbiamo cofondato insieme ad altre persone un'altra società, Ghegenni, finlandese. Ghegenni costruiva e vendeva bot abbastanza grandi per società molto grandi, tipo Nordea, una delle maggiori banche scandinave. Quindi una volta venduta Ghegenni abbiamo pensato di capitalizzare sulla nostra esperienza passata e così è nato Mr. Call. Mr. Call è nato con una visione abbastanza chiara, quello di fornire dei bot avanzati, a bassissimo costo, anche a piccole e micro imprese, che sono alla fine i soggetti economici che sono rimasti fuori dalla rivoluzione informatica dell'intelligenza artificiale. Il risultato è stato un servizio che permette alle micro e piccole aziende di avere un bot funzionante, intelligente, perfettamente integrato nel giro di qualche minuto, a bassissimo costo. Contrariamente a molti altri servizi che richiedono giorni di configurazione, una persona dedicata al training, alla creazione del bot e dei costi che normalmente raggiungono varie migliaia di euro l'anno. L'unicità di Mr. Call rispetto ad altri bot è che in realtà è un unico bot. Mentre gli altri bot vengono spesso costruiti ad hoc per un'azienda, noi abbiamo invece un unico grande bot, un unico grande cervello che gestisce tutti i nostri clienti. Vogliamo, uno, migliorare ulteriormente il motore conversazionale, vogliamo poterci integrare con servizi di terze parti e infine le dashboard di Business Intelligence che sono una feature che ancora non abbiamo implementato ma è molto richiesta dai nostri clienti perché per la prima volta avranno la possibilità di avere un'analisi completa di tutte le telefonate che ricevono, chi le fa, perché le fa, che bisogni vuole soddisfare. La soddisfazione dei nostri clienti ha un doppio valore. Da una parte ci hanno tenuto a farci sapere che gli abbiamo veramente migliorato la vita. Abbiamo recensioni di clienti che ci dicono che grazie a Mr. Call hanno riacquistato parte della loro giornata e l'hanno potuta ridedicare nuovamente a se stessi. Dall'altra parte abbiamo dimostrato che un prodotto semplice ed economico può avere un valore maggiore di un prodotto caro e non sempre semplice. Per molti dei nostri clienti non siamo il primo prodotto di intelligenza artificiale che hanno provato ma siamo quello con cui loro sono rimasti e con cui loro sono felici di rimanere.